feste ricorrenze auguri e tanti regali regaliamo qualcosa di prezioso e di veramente indovinato come una penna aurora scegliendo fra gli originali modelli per signora di recente creazione l'ultima novità regalo il successo di quest'anno aurora per lei nella preziosa gamma in oro e in argento scegliamo la sua aurora il nostro regalo più personale aurora la perfezione nella sua borsetta aurora